Questo film, come è andato, come sta andando? Ci sono novità? Provo a dirti qualcosa di nuovo sul film, perché ogni volta che si parla di qualcosa, secondo me, bisogna sempre aggiungere. Non bisogna mai restare fermi all'ultima informazione, altrimenti non ha senso fare le interviste. E questo canale merita, tu meriti, gli occhi con cui mi parlavi merita. Dai, che ci faccio il titolo. Io l'ho fatto un po' a posto, perché mi piacciono i tuoi titoli, che sembrano un po' il Daily Bugle. Esatto. Io ti vedo come J. Jonah Jameson. Sparano pure a me, sparano, guarda.